Orribili, orribili cose stanno per accadere, e accadranno a te, a te, a te, e a te. Buono furia, e ci ribocci che te li incadranno, e ci ribocci che te li incadranno. Oh popolo, ascolta questa predizione, coda ricciolata, mille occhi, intrappolate per sempre. Attenti, attenti, il tempo scorre, Epa! 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 Credetemi, affiduciatevi! Un, due, tre, Davida, 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 grazie per avermi ascoltato! Ecco Bart, è l'ora della sfida finale. Io sfido te ad andare fino da Crusty Burger in skateboard, e ritorno... Nudo! Nudo come? Senza mutande! Qua le buste mi vedono al birillo! Oh, ho capito! Allora ti dichiaro subito Pollo Fifo a vita! Tutte le mattine ti sveglierai sentendo... Buongiorno Pollo Fifo! Al tuo matrimonio canterò... Cacca di... Cacca di... Signor Presidente? Ja, sono io. L'inquinamento a Springfield ha raggiunto livelli critici. Oh, detesco questo lavoro. Qui si parla di crisi, di fine di mondo, questo altro. Nessuno che cominci con uno scherzo. Mi manca Danny DeVito. Ah, vuole uno scherzo, eh? Mi interrompa se ha già sentito questo. Ah! Guarda che occhi infuriati! E che denti giganti! Sembra Natale in tenuta dei Kennedy. Signor Presidente, quando lei mi ha messo a capo delle PA, è stato applaudito per aver nominato uno degli uomini di maggior successo in America a capo dell'agenzia più sfigata del governo. Perché ho accettato il compito? Perché sono un nuovo ricco e voglio restituire qualcosa a mia volta. Non i soldi, ma qualcosa. E questa è l'occasione più adatta per sbatterci un po' per la madre terra, signore. Sto ascoltando. Dunque, ho ristretto la scelta per lei fra cinque alternative inammissibili. Ciascuna provocherà sofferenze incalcolabili. Scelga numero tre! Non vuole leggerle prima? Io sono stato eletto per reggere, non per leggere. Numero tre! Eh, salve a tutti. Sì, lo so, questo non fa parte del film di Simpson. Però l'ho messo lo stesso perché volevo salutarvi. Stavate, ci tenevo a salutarvi. Anche perché nel video non sono apparso. E ci tenevo ad apparire. Ok, se volete ora potete anche premere la mistica X rossa sopra al video, sì? Oppure commentare. Ad ogni modo, grazie per aver visto il video. Ci si vede. Ciao! Sì, lo so, questo è il video. Sì, lo so, questo è il video.